Il mio mostro, Lenora, scelta di Giampiero Kesten, che è la persona che sento sicuramente più di mio padre in tutti i giorni. Buongiorno! Buongiorno! L'altro Giampiero è stato il primo a farmi una domanda, penso l'unico a farmi questa domanda, quanto dura ancora il brano? Infatti ero un po' sconvolta, perché questa è una domanda tecnica, vedi? C'è del tecnicismo! Benvenuto su Radio Latteca! Grazie, grazie, scusami, mi sono interrotto. No, vai, vai, tranquillo! No, stavo dicendo che in realtà la ragione per cui ti stavo chiedendo del brano era se riesco a finirmi il caffè, era proprio quello. Ah, scusa! Hai scelto dei brani iper radioedit, cortissimi, quindi purtroppo è andata così, è andata così. Allora, Giampiero Kesten, intanto è un grande piacere per noi averti qua oggi, qua virtualmente, anche perché, appunto, come diceva Giovanni, noi siamo grandi fan prima di tutto. Grazie! Fatichiamo anche a starti dietro, prima dicevamo che tu sei autore, tra le tante cose, di un podcast quotidiano, ma che non prende spunto dalle notizie, quindi comunque una preparazione non minima, una pingue preparazione per una puntata al giorno c'è, quindi non hai il supporto dei quotidiani e non solo, perché a volte hai cose molto americane, tra l'altro saluti a Cristiano, perché siamo veramente molto, 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 molto affezionati al podcast, cose molto americane. Nonostante l'ulcera, però vabbè, nonostante il periodo, non è colpa sua, poverino. Insomma, a parte questo, partiamo dalla musica, come mai hai scelto questo brano? Ma guarda, questo brano, vabbè, partendo dal titolo e dal testo, ovviamente, vabbè, Lenora parla del mostro, per cui, siccome so che ci sono persone che vivono la questione della DHD un po' come il proprio mostro, anche, perché un po' mostro è, mi piaceva giocarmela facile, diciamo, poi in realtà la conosco, ho avuto il piacere di conoscerla artisticamente e personalmente, nel momento in cui, a proposito di cose molto umane, un giorno mi ha scritto, io non la conoscevo, mi ha detto, senti, voglio farti una sigla, ti faccio una sigla. E quindi mi ha fatto una sigla e ci siamo conosciuti e quindi ho vissuto la genesi di questo brano da prima e sono un po' affezionato, insomma. Ottimo, ottimo. Parlavamo di, appunto, la tua attività inarrestabile e Avanti Veloce è il tuo podcast che produci insieme a Voice per Rai Play Sound ed è un viaggio tuo dentro di te, in qualche modo. Sì, parliamo appunto di ADHD ed è, come dicevo anche, diciamo a inizio programma, è un punto di vista da una parte molto personale ma dall'altra molto strettamente anche, diciamo, scientifico obiettivo che è un po' anche quello che serve, secondo me, per parlare di certe cose, cioè avere il polso di quello che effettivamente è il modo in cui viene affrontata l'ADHD. Allora, intanto partiamo dal presupposto. Come hai proposto tu questa cosa a Rai Play Sound? Come l'hai proposta? Perché? E se è stato, se ti sei mai, hai mai pensato mentre ci lavoravi? Vabbè, ma in che caspita mi sono andato a infilare. E come hai reagito a che sta cosa? Perché di solito in Rai parlano romano. Sì, questa è la Rai di Roma, per conoscenza. Dicci. È vero, anche Rai Play Sound parla romano, attivamente. Guarda, no, in realtà dal punto di vista, come dire, dell'iter è andata un pochino diversa, nel senso che io, è una mia proposta ovviamente, però non l'ho fatta direttamente a Rai, io l'ho fatta a Voice, che è il network, o comunque il gruppo di content creator con il quale collaboro. Per cui loro hanno, fra le loro mansioni, di accollarsi lo sbattimento di trovare qualcuno a cui piaccia qualcosa che tu proponi. No, ovviamente loro, insomma, a loro l'idea piaceva, per cui l'hanno tenuta lì. E quando si è, insomma, si è data l'occasione, Rai, nella figura del buon Andrea Borgnino, è stata abbastanza entusiasta di questa cosa, per cui è stata anche molto supportiva. E Avanti Veloce è rimasta come, come dire, una puntata zero e una serie di file scritti per un po' di tempo, in realtà. Cioè, poi il rush del scrivere le 8 puntate è stata una cosa dell'ultimo periodo, tra virgolette, cioè di quando qualcuno mi ha detto, ok, bella, ci crediamo, dai, vai, fai. Ok. E quanto tempo hai avuto per, vai, vai, fai? Qualche mese, che ovviamente io non ho sfruttato, ma ho fatto tutto all'ultimo. Ok, ok. E ritornando alla mia domanda, quante volte hai pensato in cosa mi sono imbarcato? Ma sai che, per quanto questa cosa, cioè è una domanda che capisco perfettamente e ti posso arricchere milioni di cose, in questo caso, per Avanti Veloce, no. Nel senso che ero proprio contento, cioè non... è stato molto difficile da fare, non dal punto di vista tanto tecnico, quanto dal punto di vista dell'introscrizione, se vogliamo, ma è stato anche molto, molto... cioè ero proprio contento del fatto che finalmente qualcuno aveva detto, ok, e che... cioè, consapevole del fatto che è un progetto strano, nel senso che potevano anche dirmi, ma che è, giustamente. E quindi no, la questione del... non ci sono state imprecazioni né esterne né interne, devo dire. Ok, ok. Allora, il viaggio di cui ci sta parlando Gian Piero e che è nel podcast Avanti Veloce è un viaggio alla scoperta un po' della DHD propria, cioè quella di Gian Piero, ma in generale, è un modo anche per raccontare, spiegare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che cos'è la DHD, innanzitutto, e a che punto siamo anche nel nostro momento storico del modo di affrontare la DHD in ambito scolastico, che è un po', diciamo, la base, no? Quello... è il mondo in cui, forse adesso, è un po' più diffusa e facile... facile, no? Diffusa la scoperta della DHD, anche se, insomma, c'è molto da lavorare. La cosa che mi è piaciuta molto di questo podcast, a parte appunto il tuo taglio, no? Di scoperta pian pian, cioè sei riuscito a rendere molto bene l'idea di te che scopri delle cose su te stesso, che è un po' quello che facciamo noi tutti i giorni, no? Cioè, a prescindere dalle cose che abbiamo o non abbiamo, però questo è un viaggio, no? Di sorpresa anche, ma anche e soprattutto nel rapporto con il mondo, cioè quello che c'è attorno alla DHD, che come tutte le, diciamo, le difficoltà o, insomma, non solo, le condizioni non considerate normali, tra virgolette, quindi le neurodivergenze e tutt'altro, è quello che poi crea l'attrito. Cioè, l'attrito è il mondo, non è necessariamente la DHD. Sì, è vero, è il contesto. Eh, parliamo un po' di questo. Com'è stata la tua scoperta anche rispetto a questo? Perché tu hai il tuo punto di vista interiore, ma magari, è vero che hai fatto l'insegnante e questo probabilmente ti ha aiutato ad avere anche, diciamo, più punti di vista, però forse è stata la cosa più interessante da approfondire. Beh, allora, parto dal questione del contesto del mondo. Sì, decisamente. Nel senso che a un certo punto, parlando con Valerio Rosso, lo psichiatra, appunto, nella seconda o terza puntata, no, terza puntata, credo, viene fuori questa cosa qua, nel senso che lui spiega anche che, qua si parla di un disturbo, ma ci sono anche patologie molto più, eh, gravi, tra virgolette, che in molti casi, eh, l'unica ragione per cui si, vengono considerate tali o quantomeno, eh, vanno curate in modo, eh, con un intervento piuttosto aggressivo, è proprio il contesto, nel senso che se c'è sofferenza per del paziente è ovvio che, eh, si vuole intervenire, eccetera, ma in molti casi, appunto, questa è la differenza, come dici tu, l'attrito, no, con quella che è la realtà, che rende certi disturbi dei disturbi, e la DHD, essendo tutto sommato una condizione rispetto a, appunto, a patologie abbastanza, abbastanza tranquilla, è ovvio che, come dire, la sofferenza di chi ce l'ha o anche di chi sta intorno a chi ce l'ha, perché c'è anche quell'aspetto, viene fuori appunto quando, eh, in questo delta, no, in questa differenza tra la realtà e il modo di ragionare, cioè, se io lavoro benissimo e sono una persona che sul suo si concentra di brutto, ma lavoro dalle quattro del mattino, quindi vado a sé che mi sveglio almeno a mezzogiorno, eh, dal punto di vista dei colleghi sono comunque uno sfaccendato, non so come dire, è ovvio che c'è qualcosa che non va, perché le regole sono altre. Certo. Questo ovviamente cozza con una certa idea di società, che è quella anche un po' performativa, no? Cioè, quella che secondo tu devi seguire un certo tipo di ritmi, i ritmi devono essere uguali per tutti, fattivi per tutti, ed è un po' questo il problema, ma come dici giustamente anche nel podcast, le soluzioni sono utili anche per chi non ha questa sindrome, per esempio a livello scolastico, no? Cioè, perché non usare le cose che facilitano tutti e non solo chi ha la DHD o altre cose. Giovanni, tu vuoi fare una domanda di empatia? No, no, no. Ti falla sta domanda. Più che altro, perché in questi 150 minuti di viaggio io mi sono ritrovato moltissimo e ho chiesto anche parere scientifico, tecnico proprio, alla mia dottoressa, il mio medico di base e la mia psicologa. Mi hanno risposto in maniera molto puntuale tutte e due, però sono, credo, entrambi in ascolto, quindi... Ah, le salutiamo, quindi non possiamo dire delle cose... No, 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 però posso tranquillamente dire che c'è un ventaglio di, appunto, di variabili sulla DHD, ma soprattutto tu racconti anche quanto questa varietà, appunto sempre dal contesto, ma anche dal racconto, dai meme, viene in un battito di ciglia, banalizzato, ma anche bollato, ma anche soprattutto di, appunto, definito come essere, vabbè, un'altra scusa, ma vabbè, come è affrontato questa parte della comunicazione? Perché in Avanti Veloce si entra, tra l'altro con una grandissima immedesimazione, un altro che, appunto, sono stato molto, molto coinvolto... Sai, per dire una cattiveria su qualcun altro, no? Sì, 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 e mi sa che è capito anche questo. L'immedesimazione è veramente tanta, 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 ma soprattutto anche la reazione al contesto di racconto. Mi è capitato di leggere anche un augusto scrittore e creativo che diceva, proprio commentava questa roba, eh sì, pure questa persona, sì, ho sto HD, ma che è? Com'è la moda? Cioè, perché, secondo te, c'è questa cosa adesso? E come l'hai affrontata tu? E come l'hai affrontata? Perché è la moda della DHD? Beh, banalmente perché, allora, ci sono due approcci a questa cosa, se vogliamo quello scientifico che non è, è anche un po' farmacologico, se vogliamo, che mi spiegava, in realtà, già citato Valerio Rosso, che sono due motivi paralleli, ma il suo, quello che mi spiegava lui è questo, cioè, è vero che ogni tanto vengono fuori nel mondo scientifico, e nel mondo soprattutto di Big Pharma, delle molecole, ok? Delle molecole che hanno degli effetti e che curano determinati sintomi, e quando quella molecola viene scoperta e quel sintomo e quei problemi, tra virgolette, possono essere curati, quel problema lì diventa incredibilmente di moda. È stato così per gli antidepressivi, è stato così per tutti, come dire, le condizioni peggiori. Però la storia della DHD è un po' diversa, nel senso che, in questo caso, il farmaco c'entra fino a un certo punto, quello che c'entra è, non lo so, io una risposta me la sono data nel podcast, cioè il fatto che scoprire di essere o avere la DHD, a secondo di come si preferisce, in alcuni casi può essere anche una sorta di autoassoluzione, in un certo senso, perché se io scopro, beh, a me è successo così, cioè nel senso non è un espediente narrativo, io l'ho scoperto davvero mentre stavo facendo questo podcast di essere DHD, mi è cascato il mondo addosso e per tutti è più o meno la stessa cosa, nel senso che, oh mio Dio, quindi sì, però c'è anche l'aspetto in cui dici, aspetta, quindi, ma non sono io che sono proprio, non so se mi possono dire le parolacce, però, non sono io che sono un coglione, se faccio tardi la sera, oppure se lavoro sempre all'ultimo, oppure metti meme in questo spazio, tutto sommato c'è una ragione, ok? Se ero quello intelligente ma che non si applica da bambino, non è perché, ma forse avevo una giustificazione a livello neurologico, per cui, insomma, più di così non si può, e questa cosa è comoda, ok? Ha un sacco di addentellati e conseguenze, ma c'è anche l'aspetto della comodità, per cui il fatto di offrire a qualcuno una sorta di, appunto, di simonia, di assoluzione, tra virgolette, a pagamento, è super tentatrice come cosa, oltretutto, voi parlavate giustamente dei meme e della moda, nei media la questione della DHD, soprattutto ultimamente, è stata raccontata come, non dappertutto, però in alcuni casi, in alcuni filoni, segui il filone del superpotere. Hai la DHD, puoi spaccare il mondo, capito? Io ho la DHD e adesso sono a capo di un piccolo impero, perché grazie a questo ho fatto, che è pericolosissimo, perché la persona che ha la DHD, che fa una vita normale, che già deve lottare contro le sue cose, dice, no, ma sono doppiamente coglione, cioè non ho neanche avuto un impero della Silicon Valley, capito? Certo, certo. E quindi... Vabbè, questo fa parte un po' della narrazione del puoi fare tutto quello che vuoi quando palesemente no. Esatto. Cioè, mi spiace, ma no. Puoi fare tutto quello che vuoi, basta che ti impegni. Basta che ti impegni, no, non è così. Se te lo vuoi, puoi. No, questi sono gli americani che ci hanno fatto un lavaggio del cervello, non solo, ma niente male. Di americani. Io voglio portare un piccolo contesto, un piccolo esempio storico, perché una persona, anzi un artista, tutti noi molto vicini, era affetto appunto da disturbo dell'attenzione col Cobain, da piccolo. Era molto, molto, molto piccolo e hanno, in America, l'abitudine di usare dei farmaci bomba atomica per dei disturbi che magari erano gestiti in maniera differenti. Questo farmaco ha portato a una distruzione del suo apparato digerente che lo ha portato in, non è che troppo darda età, comunque con il passare del tempo, grandi sofferenze che soltanto una droga pesante poteva alleviare. Sì, diciamo che, ecco, gli estremi ci sono sempre, però la narrazione solo positiva non funziona. Così come non funziona la narrazione solo negativa, questo mi pare ovvio. Allora, un'ultima domanda, Giampiero, rispetto anche un po' al feedback che hai ricevuto da questo podcast. Perché da una parte c'è il rischio, appunto, un po' simile al discorso che facevamo fino adesso. Ah, ma allora anch'io sono così. Quanti ti avranno scritto? Ho ascoltato questo podcast e io sono uguale. Ovviamente questa è una grande responsabilità che tu, da un certo punto di vista, ti prendi e lo dici anche molto spesso nel podcast. Mi raccomando, ci sono delle analisi reali che vanno fatte, dei test, no i test che trovate online, cioè i test veri dagli psichiatri. Com'è andato un po' questo rapporto con gli ascoltatori e le ascoltatrici? Ma guarda, devo dire che il messaggio di base, che è quello che citavi tu, credo che sia proprio arrivato. Nel senso che io lo sintetizzo così, cioè peggio di avere la DHD e non sapere di averlo è credere di averlo e non averlo. Nel senso andateci piano perché quando abbiamo i sintomi li googliamo e ce li abbiamo tutti. Per cui un podcast che ti parla per otto puntate di un disturbo so perfettamente che rischia di causare quello. Per cui appunto la questione è arrivata chiara, nel senso che le persone che mi hanno scritto dicendo ah sì ce l'ho anch'io, sono state forse nessuna in realtà. Mi è capitato qualcuno che diceva, anzi moltissimi che mi hanno scritto dicendo guarda finalmente mi sono deciso o decisa a prendere l'appuntamento perché lo continuo a rimandare da tanto tempo perché ho deciso che voglio una risposta. Però sono persone che già come dire avevano più di un sentore e soprattutto hanno colto il consiglio di scegliere la strada dei professionisti e non delle crocette su internet. Moltissimi invece sono stati ed è stato un po' inaspettato ma molto bello e molto commovente anche perché sono stati davvero forse i messaggi più belli che io avevo mai ricevuto dal punto di vista del mio lavoro. Genitori, genitori che mi dicono adesso capisco come probabilmente o almeno un pezzettino di come mio figlio o mia figlia vive effettivamente la DHD. Perché ovviamente in molti casi si tratta di adolescenti che sai che ad adolescenti non è che si ha tanta voglia di raccontarsi ai genitori. Figurati se ti rompono le scatole perché hai un disturbo sei diagnosticato. Per cui il fatto di dare una piccola apertura, perché poi non è così per forza, però una possibilità di come potrebbe essere effettivamente la vita vista da dentro di chi ha la DHD è una cosa che evidentemente chi è genitore dà una bella mano. Quindi in ascolto free per tutti, ma è anche recentemente su Spotify. Quindi le tante persone che ci stanno scrivendo, anzi leggo alcuni messaggi dal Whatsapp, da rappresentante di classe, componente genitore, recupero questo podcast. Oh perfetto, grazie. Che bello scoprire le cose nuove con voi, lo ascolterò. E poi appunto il commento sulla perché non utilizzare i PDP anche per chi non è inquadrato come DSA e BS. Sì, sembriamo tutti pazzi, però queste insomma sono tutte sigle che riguardano i PDP, sarebbero i piani personalizzati in ambito scolastico, esatto, e DSA e BS sono come vengono inquadrati gli alunni rispetto alle loro difficoltà che possano essere transitorie o fisiologiche fisse, insomma. La domanda dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice è perfetta, esatto. Perché? Boh, non si sa. Infatti, perché renderebbero insomma tutto più facile anche agli altri, ovviamente. Non vi aspettate una cosa ampollosa, noiosa, perché no. No, 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 anzi. Anzi, c'è un sound design veramente molto intelligente. Sì. Appunto, il ritmo è quello che state sentendo che arriva dalla cornetta, perché Gian Piero Kesten è veramente un fulmine. E in più ci sono tutte persone ovviamente ipercompetenti che raccontano e dicono, insomma, come bisogna muoversi. E in più ci sono anche persone che hanno la DHD o sono a DHD che raccontano questa dimensione della comunità, anche un po' del non sentirsi soli. E questo secondo me è anche molto interessante e importante. Tu stai mantenendo i rapporti con queste persone? Come andiamo? Sì, solo che ovviamente io di solito parlo con una delle ragazze che era da presentante, che è Gaia. Sì. Però fa molto ridere, perché oltre ad essere tutte e due molto impegnati, siamo, come dire, dei membri di noi stessi, per cui ci scriviamo e l'altro risponde tipo con una settimana di ritardo. Ah, vabbè. Per cui... Però lo sapete, quindi già c'è da una parte partire armi pari. Sì, ci scusiamo. Grazie mille Gian Piero Kesten. La seconda scelta musicale? Lenta conquista dei cosmetic. Come mai l'hai scelta? Oh, allora, è una canzone che ho scoperto completamente per caso, un gruppo che esiste da tantissimo in Italia, ma assolutamente vinicchia per certi aspetti, perché Lenta conquista è il racconto, nel suo caso non credo proprio della DHD, però comunque del... sta conquistando delle cose chi canta o chi racconta, sta uscendo da un brutto periodo e secondo me è molto bello. È una canzone che, come dire, è stata colonna sonora di alcuni periodi della mia vita e ci sono molto affezionato. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie Gian Piero, a presto. Grazie a voi, vi abbraccio tanto, un saluto a tutti all'ascolto. Grazie, ciao. Ciao.